Allora amici di Calciopazzo io per parlarvi di Frosinone Crotone partirei proprio dal finale anzi quasi dalla fine vorrei fare un elogio al monumentale capitano del Crotone Cordaz che praticamente parando un rigore in movimento a Federico Dionisi fa una partita fa una parata salva risultato distinto di piede e consente poi al pareggio di diventare una vittoria grazie insomma come abbiamo detto alla rete che è arrivata proprio allo scadere perché il Crotone di solito allo scadere prende delle inculate clamorose questa volta invece è il Crotone che dà l'inculata clamorosa su un gol da calcio piazzato e il Crotone è una squadra maestra nel segnare da calcio piazzato perché comunque il 50% dei gol segnati fino ad oggi nel campionato vengono da Palaferma e questa è una caratteristica molto importante il colpo di testa di Mazzotta la deviazione del portiere e ribadisce in rete marrone detto questo gli altri due gol sono nel primo tempo di Mazzotta su un bellissimo cross di mustacchio molto teso la palla che sfila tutta dentro l'area piccola non esce il portiere non intervengono i difensori e Mazzotta non deve fare altro che accompagnarla in rete di sinistro poi c'è il pareggio molto bello da parte di Paganini ma più che altro è bella la preparazione da parte di Ciano che con un lancio quasi no look la mette nell'angolo dove praticamente non restano un po' imbarazzati i difensori del Crotone e Paganini con un bellissimo diagonale fa secco Cordas per l'1-1 e poi insomma abbiamo detto altre occasioni secondo me la partita è stata abbastanza equilibrata a livello di occasioni però forse a memoria mia poi magari non lo so ma mi sembrano più incisive sono state un po' più incisive quelle del Crotone mi ricordo un paio di tipi di Barberis per cui insomma credo che il Crotone abbia fatto una vittoria fondamentale e perché con una diretta concorrente nella zona playoff e perché appunto anche col fatto che il Crotone non perdeva da settembre comunque andare lì a espugnare questo campo è stata veramente un'ottima impresa secondo me io vi auguro un buon santo Stefano a tutti e mi raccomando piano, magnate piano, magnate meno e piano perché io non ce la faccio più io sto boccheggiando, io dal 24 che mangio ininterrottamente non c'ho manco più la voce buona serata a tutti